E lo vorrei dire con calma, perché adesso mi devo rivolgere a un ministro del nostro governo, lo vorrei ricordare anche al ministro Salvini, che se vuole rispettare la Costituzione su cui lui ha giurato, non deve chiudere i porti, deve chiudere le sedi di Casa Pound e deve impedire e fiolvere le vocazioni che fanno apologia di fascismo. Questo deve fare nel rispetto della nostra Costituzione.